hai sbloccato la partita contro la capolista che poi ha dato la vittoria per 2 a 0 sensazioni hai già realizzato a caldo di aver battuto la capolista con il tuo gol sì l'importante non era il gol ripeto per me è importantissimo perché sono attaccante quindi devo comunque segnare per la squadra e tutto e poi faccio i complimenti anche a Pietro che ha fatto il secondo gol quindi bravissimo anche lui e poi niente il mister due settimane che ci dice di non focalizzarci su questa partita perché sono tre punti come gli altri ripeto era importantissimo però siamo contenti abbiamo battuto la prima della classe non gli si può dire niente però siamo dimostrati all'altezza forse anche superiore. La dedica a chi? La dedica alla mia famiglia perché è stato un inizio dell'anno molto complicato e la voglio dedicare anche a tutta l'Iperia perché loro sono sempre qua allo staff, ai compagni, al mister, a tutti quindi questo volgo a tutti